Ciao a tutti raga in questo nuovissimo video, si si siamo tornati quasi però con l'upload disinstallato visto che troppo il primo video è andata così mi dispiace ma ho già provato diverse prove effettuato e ho visto che molto meglio si vedeva facendo mettendo un video su youtube scrivendo prova che se mai qualcuno lo vedesse e ho visto che era migliore non si vede infatti non si vede più sfogato poi vi dissi che se volevate andavate sui tre punti mettevate qualità video e la massima mettevate poi vabbè in questo semplicissimo video vi voglio far mostrare prima cosa la grafica voi mi scriverete nei commenti quando partire con i video inizieremo visto che abbiamo questa grafica e intanto sbloccato nortis porco giudo sempre sti cazzi cosa non è possibile gioco improvvisamente mi chiamano le cose più brutte ti chiamano si imballe gioca e perdi sempre le partite intanto siamo andati a 22 adesso 22 manca solo queste persone molto importante manca solamente un giorno 11 ore e a bibi si bibi già si ha fatto il suo viaggio quindi adesso la potete trovare se avete fortuna nei bauli io non la posso trovare la troverò tra due tre settimane forse ancora un mese perché ho trovato lui purtroppo non mi serve è una persona inutile serve solo quando hai poca vita e con gli sei colpi puoi andare avanti cioè puoi schivarti i colpi avversari poi per il resto te lo hai potenziare a livello 10 per fare tanto danno cioè fa 900 di danno livello 2 fa 990 insieme poi non so comunque con 4 qui a sopravvivenza con 4 barretti di energia un 4 non so come si chiamano comunque fa 1260 però non so se sono quattro ricarica non so comunque le va a 1260 chissà dove lo dovremmo caricare se le va a 900 990 dovevo fa mille eh sì penso alla quarta barretta sì vabbè vi lascio e mi raccomando iscrivetevi commentate lasciate lasciate like e prima di lasciarvi faccio vedere una bellissima cosa sì non so se sì ho scaricato l'intro maker sapete che significa possiamo e poi ho messo mobizen qualcuno la conosce già l'intro maker andiamolo a provare dai andiamo a costruirci la nostra intro e come non è bella bellissimo eh come no bella wow bellissimo no ma bisogna scaricare non è giusto no che cos'è questa no qualcosa di più eh tipo questo già va bene vedete mettiamo sì bella ragazzi adesso ci lavoro un poco va bene ragazzi adesso ci lavoro un poco e ci vediamo alla prossima